Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 27 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Ottimisti e vittoriosi sui pensieri neri. Nuvole nere si addensano nel vostro cielo a causa della luna ipersensibile in pesci, resa ancora più malinconica da Saturno, campione di tristezza. Contro le cupe e solitarie riflessioni, però, si scaglia l'ottimismo di Giove, un braccio di ferro che proprio come nel mito greco vede il re degli dei vittorioso sul padre, che esiglia sull'isola dei Beati per aver tentato di impedirgli di nascere inghiottendolo come aveva fatto con gli altri fratelli. Pensiero positivo, visuale rosa della vita, dunque l'ottimismo contro i dubbi, i timori e i sensi di colpa. Finalmente liberi da un torto subito brindate con vino rosea alle sorprese che l'estate ha in serbo per voi. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. Non firmate niente che non avete letto bene, se c'è qualcosa di poco chiaro prima di firmare chiedete il consiglio ad un esperto e lasciatevi guidare da chi ne sa più di voi davvero. Avete bisogno oggi di tanta fiducia in voi stessi se vorrete recuperare il rapporto con alcune persone, cercate di ammettere i vostri limiti e accettare quelli degli altri. Non trascurate troppo il partner potrebbe allontanarsi prima del dovuto. Avete aspettative troppo elevate. Cercati di volare basso. Oggi potreste aver bisogno di tutta la vostra pazienza e tenacia per raggiungere uno scopo che vi siete prefissi da lungo tempo, con l'impegno sicuramente ci riuscirete. Siete tristi perché la vostra mente torna sempre su quello che è stato in passato. Cercati di metterci una pietra su e di vivere. Troppo tempo su social nella vita virtuale serve a togliervi energie preziose che potreste indirizzare per realizzare progetti nuovi o migliorare quelli esistenti. Tra alti e bassi la vostra giornata scorre tutto sommato in modo abbastanza tranquillo. Tra le vostre amicizie c'è qualcuno che critica le vostre ultime scelte, soprattutto in fatto sentimentale. Non abbiate timore di esporvi spiegando le vostre idee in proposito. Correte sia vero, ma in modo disordinato, verso la vostra meta, oggi sarebbe il caso di affrontare seria manete almeno due problemi che vi affliggono e tentare di risolverli per quanto possibile. Prima di affrontare qualunque spesa riflettete molto bene e fate in modo comunque di poter decidere se farla o meno anche all'ultimo minuto. Non date nulla al per scontato. La nuova posizione di Giove in congiunzione in gemelli, coadiuvata adesso dall'ottima spinta che vi dà Plutone in aspetto armonico dall'acquario, vi fa immergere nel clima d'inizio estate con frizzante vivacità di spirito, curiosi di quel che accade, stimolati dal gusto per gli esaltanti colpi di scena. D'altronde, non siete forse segno governato dai corpi celesti più legati alla forza del cambiamento, alle nuove realtà e creative, Urano e Mercurio? I due pianeti idealmente vi assistono, da Toro e Cancro, nel dare svolte significative alla vostra vita concreta. Protagonista non solo oggi ma per tutto l'anno il grande Giove, peccato che oggi si scontri con la bianca signora allo Zenit, supportata da Saturno, entrambi in quadratura. Abbasso il dovere scrivereste col gessetto sulla lavagna, e viva invece il piacere, tanto apprezzato dal vostro generoso e godurioso inquilino, ma anche dal sole estivo abbracciato a Venere nella vostra seconda casa, quella che acquista, gusta, spende, ma sa anche condividere e regalare emozioni e piaceri. Amore ed Eros A sentire i suoceri siete un essere immaturo, inaffidabile, un mostro di superficialità che farà tanto soffrire la loro bimbetta o il loro bambinone. In realtà il detto figlioletto barra rovesciata con voi ci sta benone, siete legati a doppio filo e non fate che sbaciocchiarvi, del tutto indifferenti alle occhiate della gente che comunque vi guarda in tenerita, per chi non è invidioso l'amore vero fa sempre piacere non solo per sé, ma anche da ammirare nelle storie altrui. È in arrivo un sentimento nuovo, abbandonatevi pian piano alle emozioni e non abbiate paura di aprirvi poi completamente, gli astri non vi deluderanno. Siete di solito parchi e misurati negli affari materiali, come vuole il terzo vostro pianeta governatore, ma, nei sentimenti, potete, anzi dovete, dare e concedervi di più. Altrimenti non vi potete lamentare. Lavoro e denaro? Il capo non è uno zuccherino, ma il suo rigore e il suo pessimismo a voi fanno sorridere, cultori del pensiero positivo vedete sempre il lato buono nelle persone e la parte piena della coppa, anche quando ormai non contiene che poche gocce. Ma meglio poche che nulla, ecco la vostra filosofia. Acquisti sfiziosi soprattutto per le persone amate, ma qualcosina anche per voi stessi, se non vi siete ancora fatti un regalo di compleanno o siete in tempo per rimediare. Peccato non attendere i saldi, ma a qualche vendita promozionale troverete già qualcosa in grado di appagare il vostro desiderio di eleganza e di bellezza. Sarebbe perfetto se organizzaste nei prossimi giorni una gita fuori porta, in cui poter staccare completamente la spina. Vi siete accorti che corpo e mente vi chiedono una pausa? State lavorando tanto in questo periodo e vi è necessaria una fase di relax assoluto. Benessere. Se un problemino ce lo contenete con intelligenza, facendo del vostro meglio perché non dilaghi. Può trattarsi di semplice affaticamento, di indolenzimenti muscolari e di qualche capricetto del vostro fegato, contrariato dai postumi di una buffata che è piaciuta a voi ma non a lui. Fatevi perdonare con un paio di giorni a verdure e succhi di frutta e agrumi, niente proteine, niente lieviti, soprattutto nel bicchiere e solo tè verde o acqua minerale naturale. Per lei, rosa l'umore, rosa anche la tavola e gli ingredienti nei piatti. Cena monocromatica, insomma, per parlare di amore, speranza e soluzioni felici ai problemi. Per lui, il capo è pronto a farvi una filippica, ma davanti al vostro sorriso disarmante e alla sicurezza nelle vostre potenzialità, getta la spugna. E chissà mai che dopo questa consapevolezza non vi conceda anche l'aumento. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.